Buonasera, buonasera a tutti, 14 maggio, ste lozioni maledette sono incredibili, comunque buonasera a tutti, 14 maggio, la notizia della serata, cari amiche, cari amici della Champions League, figo, figo, ma dove figo? Figo, figo è una grave crisi ansiolitica, ansiogena, ansiatica, nel senso che figo è dallo psichiatra tutte le sere, e per quale motivo? Perché ci sono Sheva13 e The Bride che lo precedono di brutto in classifica e questo lui non può sopportarlo, è un vero, 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 vero guaio e comunque vi saluto e vi passo subito alla grande amica Otto Biscotto, che vi racconta altre cose, siamo seri, mi raccomando, ciao! Signore e signore della Champions League, buonasera, oggi 14 maggio, Roby58 compie 50 anni, è lui che racconta in giro di averne ancora 30, di galera! Tanti auguri da parte di tutti noi, caro Roby, e per oggi è tutto, vi saluto e vi rimando alla prossima edizione con un dubbio, c'è qualcuno che dice che siamo dei pagliacci, sinceramente non capisco come mai, vabbè alla prossima, ciao!